Sulla pista, bene, aspettiamo che esca l'ultimo led, e soprattutto che esca anche l'ultimo cavallo, ecco qua, si spostano, andiamo! Partiti! Conduce Fina Bellina davanti a Basilia Fan, Clamorosa, Whipper Express, Quino Spring, Curva della Luna e Apremois. Dopo 300 metri di corsa è in vantaggio Fina Bellina, davanti a Basilia Fan, con all'interno Clamorosa, seguono Curva della Luna, Quino Spring, Whipper Express e Apremois. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Fina Bellina, davanti a Basilia Fan, Clamorosa, Quino Spring, Whipper Express, Curva della Luna e Apremois. Poco prima dell'ingresso in vantaggio, prosegue in leggero vantaggio Fina Bellina, davanti a Basilia Fan, Clamorosa e Quino Spring. I cavalli entrano in vantaggio, con Fina Bellina in vantaggio lungo la corda, attaccata all'esterno da Basilia Fan, seguono Curva della Luna, Quino Spring, Apremois, Apremois. Apremois è clamorosa, passa Basilia Fan, davanti a Fina Bellina, Curva della Luna, Premo A, Centropista e Quino Spring. Si avvantaggia Basilia Fan, davanti a Curva della Luna, è sempre in vantaggio Basilia Fan, davanti a Curva della Luna e Fina Bellina. Grazie. 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 Grazie.